ed eccoci qui con la nostra cuoca perfetta possiamo vedere all'opera la professoressa della cucina luigina notiamo quanto sta facendo fatica a non ridere si vede proprio che sta trattenendo il sorriso per affettare le carote ora io nonna ti insegno un trucco dimmi per fare questo no però se vuoi fare delle carote morbidissime tu le carote le vai a pelare poi le fai bollire intiere perché così non prendono troppa acqua e fai bollire bene fai cuocere nell'acqua bollente le tiri fuori poi le tagli vedrai che sono morbidissime dopodiché le metti sulla padella due o tre minuti per dargli proprio la parte finale sono buonissime morbide dentro ma io questo voglio fare come un modo mio questo qui è un sistema che a me piace così questo qui è un sistema che a me piace così come possiamo vedere sul grembiole la scritta recita cuoca perfetta ora stiamo tagliando i trifuli e le trifule possiamo far vedere anche il resto dell'outfit che recita nonno luigino questo è il classico secchio della verdura dove altro potresti mettere la verdura questo secchio giallo il secchio della verdura siamo concentratissimi attenzione la tecnica di taglio questi capelli con il loro taglio sono stati appena sistemati mi parli anche tu o parli solo io? parla 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 a te parla a te parla a te io adesso taglio le verdi che questo è un giorno come natale natale cade una volta l'anno pasqua cade una volta l'anno la nonna che fa le verdure cade una volta l'anno non dire scemate non dire scemate no scherzo non dire scemate è un po' come le stagioni quattro volte l'anno non dire scemate non dire scemate bravissima certo certo autoreferenziata guarda che belle pentole guarda che bella pentolata di trifule, verze, patate, patate, no patate erano in trifule queste qui devo farle bollire ci mettiamo sopra il gorgonzola? no il gorgonzola però il gorgonzola no quasi quasi perché il gorgonzola?